Villino Campi a Riva chiuderà per sempre il 25 novembre. La provincia ha deciso di eliminare il Centro di Valorizzazione Scientifica di Riva nell'ambito di un piano di riorganizzazione che ha toccato anche l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente. La struttura è stata aperta nel 1998 e per quasi 20 anni è stata un punto di riferimento per la divulgazione delle conoscenze scientifiche legate al nostro territorio. È qui, ad esempio, che sono state tenute costantemente monitorate le acque del lago, fornendo periodicamente i dati della balneabilità del nostro lago. L'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ha assicurato che continuerà a garantire tutte le analisi, mentre ciò che cesserà saranno le attività didattiche e culturali allestite all'interno della prestigiosa villa. La provincia ha comunicato solo di recente le proprie intenzioni all'Amministrazione Comunale di Riva, che è proprietaria dell'immobile. L'assessore comunale Massimo Corsi ha fatto sapere che i quattro dipendenti provinciali in forza al Vilino Campi non perderanno il loro posto di lavoro, ma verranno ricollocati altrove. Con la chiusura del centro di valorizzazione scientifica va a liberarsi quindi uno spazio importante collocato in un'area strategica e ora l'Amministrazione Rivana dovrà decidere come riutilizzare questo compendio.